ciao a tutti vi presento i miei kefiran eccoli qua sono passate 24 ore hanno fermentato per 24 ore a temperatura ambiente potrebbero stare anche un pochino di più fino a 48 ore però poi sviluppano troppo acido acetico e quindi si sentirebbe il sapore un pochino più aspro li giro prima di colarli ecco li giro un pochino avete visto come il latte ha formato il caglio e sotto stava già scendendo il siero li colo dentro il mio setino di plastica un po per volta perché è un po piccolino debbo comprarne uno un pochettino più grande visto che la produzione sta aumentando poi ho iniziato io ma si è allargato il giro perché le mie sorelle poi le amiche tutti lo chiedono molto molto richiesto questo kefir e quindi doniamo molto volentieri i grani in eccesso crescono poco ma comunque crescono bene giro così e sotto rimane il kefir intero eccoli qua li ho scolati per benino guardate come sono carini un bel colore bianco bianco leggermente danno sul color panna ma proprio leggermente li spingo anche non succede niente però assolutamente non vanno lavati allora il kefir andrebbe bevuto così intero e io queste informazioni naturalmente le ho lette tutte sul sul sito di kefir italia.it trovate tutte le informazioni i grani qui li rimetto nel barattolo che ho lavato con acqua calda acqua bollente poi asciugato e li ho pesati e ci ho rimesso il latte io uso la proporzione da 1 a 10 quindi 10 volte il peso dei grani questo è il latte scusate il kefir per intero quindi completo del suo siero è pieno pieno di sostanze salutari per il nostro organismo però che succede c'è chi non piace così il liquido tipo adesso io lo sto preparando per cristina lo vuole un pochino più ristretto quindi lo metto a colare in un telo sempre lavato con acqua calda senza detersivi lo aggiusto così con i recipienti sotto dove andrà a cadere il siero ecco qua l'ho preso con il graduato perché poi mi servirà per fare ricette il siero e vado a scolare un pochino ma un pochino non è che devo farlo addensare tanto quindi mezz'ora un'ora già basta quindi aspetto che coli un pochino il siero vedete goccia a goccia sta colando quindi ci vorrà con un'oretta avremo il nostro yogurt naturalmente questo siero possiede la maggior parte delle delle proteine dei dei batteri vitamine quindi non va assolutamente sprecato può essere anche bevuto usato magari che so dentro frullato va usato nelle ricette per tante cose invece dell'acqua si può usare il siero e per fare la ricotta anche il primo sale eccetera ecco qua vedete è passato un'oretta io direi che quasi pronto io ho bevuto il mio bicchierino intero con un po di cereali di solito ci metto i cereali oppure la frutta secca le mirtilli allora adesso tolgo tolgo l'elastichino e lo appoggio appoggio lo yogurt facendo attenzione usando sempre i cucchiai di plastica puliti lavati con acqua calda facendo attenzione dicevo a non contaminare niente ok si potrebbe anche far restringere un pochino di più ma non voglio togliere più di tanto siero li metto nel barattolino sempre pulito sciacquado con acqua calda e pulisco bene pulisco bene il telo ecco qua e lo yogurt è pronto e a questo punto lo chiudo e lo metto in frigo sia la densità diciamo giusta facendolo più denso viene fuori una sorta di yogurt greco oppure anche si può fare lo spalmabile la crema spalmabile lì deve scolare proprio tanto bene amici anche questo piccolo video è finito vi ringrazio tantissimo della visione spero di esservi stata utile ciao a tutti grazie a tutti